Ma smettiamola con tutte ste polemiche, sempre a polemizzare, uomini politici che vogliono rifarsi la verginità non venendo qui stamattina, è una cosa ridicola, è stata una parata sobria, è il segno della solennità della festa della Repubblica e non troviamo sempre modo per polemizzare, è veramente una cosa. Ma chi credono poi, uno pensa di riguadagnare popolarità facendo le sceneggiate e non venendo qui, ma è una cosa ridicola, c'è veramente da mettersi le mani nei capelli.